Buongiorno, questa è l'Innovative Materials, che è un'azienda che esiste già da qualche anno sul mercato. È un'azienda che si occupa di produrre prodotti che noi chiamiamo innovativi per il fatto che hanno delle applicazioni in campi tecnologici avanzati. L'innovazione che noi portiamo è legata sicuramente al metodo di produzione dei nostri materiali, in particolare la produzione di polveri che avviene mediante una tecnica abbastanza innovativa che si chiama Self-Propagating High Temperature Synthesis e poi la densificazione, la sintetizzazione e l'ottenimento del prodotto massivo a partire da queste polveri mediante un'altra tecnologia molto importante che si chiama Spark Plasma Sintering. I materiali che noi produciamo, come dicevo prima, trovano applicazioni in settori molto importanti dell'industria, della metallurgia, ma anche applicazioni di natura spaziale e sono materiali che devono resistere a temperature di utilizzo molto elevate e soprattutto devono presentare delle proprietà meccaniche molto importanti.